Ciao ragazzi a voi su iscriviti, siamo con un nuovo video, oggi siamo con la seconda puntata della carriera retro su FIFA 16 sulla PS3 E infatti, come potete vedere, è PS3 Andiamo avanti E se faccio un'altra domanda, penso che ci andiamo avanti Ci può andare avanti Bene, andiamo a vedere, presto è scaduto, presto è scaduto Doi resti, non ci interessa Allora abbiamo 60 milioni, ci servono almeno un COC e un CDC CC e COC, mettiamo CC e COC Quelli che ci urge prendere, CC e COC Ci entra in pista, un CC barra CDC e non sia SD CC Vediamo Lo voglio bello, è forte Bello, non mi interessa, è forte comunque Vediamoli Poi il giovane andava bene Ma qua no ACPAC PRO GEN DANIEL ACPAC PRO Credo sia quello che ora è la Lazio Non lo so Al-Kaif Al-Mazur Vediamo se troviamo uno che non sia O Al-Kaif o Al-Mazur Questi nomi Delle Halle, 19 anni qui Qui raga è davvero forte delle Halle C'è un'informazione, diciamo quanto ci sta 6 giorni 6 giorni io se non compare qui e voglio uno da questi che metto nel coso dire facilmente non c'è ed è che potrebbe fare pure il cc dov'è raga scusate c'è ma ecco no fa il cc fa le s ma che se ne frega che se ne fotti se fa le s lo possiamo prendere bellissimamente prendere lo spostiamo nel ruolo che piace a me e qual formazione su dna c'è baglios oggi vediamo un po chi mette nelle nostre liste poi ci sarà benissimo dalla prossima puntata direi benissimamente cominciare la prossima puntata raga va lento non so perché questa puntata durerà massimo sette minuti va bene pure dieci ora pure se dura meno le prossime credo dureranno più di dieci dieci dodici minuti non più di 15 spero di fare dura meno di 15 però almeno più di dieci ci può arrivare la prossima ora voglio solo fare così veloce poi penso usciranno più avanti queste usciranno più di mattina che verso di sera metti uno appena uno appena sveglio vado a mettere queste cose spero proprio dissi la sveglio proprio no fresco e verba nega potrebbe servire un ottimo giocatore verba nega si raga prendo pure molti giovani che mi piace mi piace su giovanizzare e mi scoccia cerca più che altro ora dopo vado a rifare un po tutto a bernard ragazzi un po tutto guardo ora perché ho visto quelli in rosa che ci servivano fuori rosa ci può servire quel quanto c'ho cinoma fuori rosa no ma dopo voglio prenderlo e mandarlo presto voglio provare pure borga bojan scorti ex stella soffian buffal pure lui raga bello giocatore bella bestia potrebbe essere dell'ill ora raga guardiamo un attimo chi ci può mancare fuori rosa allora un attacco siamo a posto sia fuori che dentro ciò ci stiamo cercando ci diceva bene un cicci ma prendo i due due di quei cicci siamo a posto raga raga questa è la cosa ho messo con me spero il video vi sia piaciuto dal prossimo partiamo bene ve lo dico andiamo avanti nel calendario ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao